15 luglio 2016 l'ennesimo video della 106 nel fratto tra Sibari è spezzano termine la deviazione è ancora come l'abbiamo lanciato l'ultima volta non è cambiato assolutamente nulla anzi penso che abbiamo leggermente peggiorato la situazione vedremo di fatto è stata cancellata totalmente la 106 vis così chiamata è stato fatto questo carruolo che chiamano strada su cui percorreremo circa una ventina di chilometri c'è qualcuno che pensa anche di sorpassare queste condizioni ecco qua oggi è un triste giorno da ricordare quello dell'attentato in Francia ci sono stati purtroppo tantissimi morti ecco qui di lato vediamo il tratto nuovo quella è la strada nuova è stata scavata un paio di anni fa ed è rimasta lettera morta e rimarrà lettera morta fino a che i tribunali decideranno quello che è pensa che se qui deve passare un'ambulanza dovrà vorrei capire dove deve andare soldi pubblici messi su questo carri ormai anche i piloni di acciaio dei ponti sono completamente arruginiti ecco qua questa è la strada questa rotonda è stata fatta da poco prima non c'era quindi di fatto qualcosa è stato fatto ecco qua e qui si ricomincia eccoci qua questa è la famosa questa è la famosa questa è la famosa questa è la famosa ecco ecco doppio senso di circolazione c'è da dire che comunque l'asfalto è in buone condizioni ci sono pughi su questi no non abbiamo noi quello là è il tratto nuovo che doveva essere costruita a quattro cortie ed è diventata una discarica che ce l'ha messo sicuramente la gente ha ben pensato di andare a pensare un po' di rifiuti di nerdi e altro vediamo quanti chilometri sono almeno 10 o 15 chilometri praticamente il nuovo tratto è stato iniziato e poi ecco puntualmente mi piace questo tratto no ma devi andare un metro di supporto non vedi hanno fatto anche i posti vedi i rotti che so non lo so che si gira in queste radia ma che sarà troppo no e poi c'è un compleanno scusate oggi è venerdì quindi c'è l'indovinello è chiaro che ogni stagione non può essere mai è chiaro Guarda che bella il set Capra perfetta Forse ci faccio operare Qualche raro esempio Si vede a essere strani Forse i lavori stanno per riprendere dopo un po' Vediamo anche i campi Poi non la trovo Grazie 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 Grazie